Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, qui è come la inviglia per intornarvi in un video nuovo dirò su Fortnite per fare un paragone, perché come ben sapete è uscita la nuova versione di questa che è attualmente qui perché tutto accanto ovviamente non la ho adesso andiamo a vedere e eccola qua, questa qui questa qui si chiama la ricociata rocks questa qui è ovviamente la versione anime epica non ha stili purtroppo mentre questa qui, vabbè lo sappiamo tutti non sono riuscito a sbloccare l'ultimo colore questa qui è dotata di dorsale, anche l'altra, anche l'altra è dotata di piccone peccato che qua le asce armoniche non le ho, ma ho questo qua e io invece direi di fare anzi no, per facciamo così e non ho voglia di rifare tutta la personalizzazione è un peccato che non c'è la scia non ce n'è neanche una che che non c'è la raccolta con questa qui no eh questa può andare matcha completamente il colore nice non lo sapevo che matcha va con le persone con tutta la skin l'obiettivo è fare due vittorie ovviamente non è possibile sullo stesso account ma noi ovviamente ci copiamo ricordiamoci dobbiamo avere lo stesso set qua c'è la skin qua c'è il dorsale qua c'è il piccone qua c'è il beta plano qua c'è anche le emote qua c'è la copertura qua c'è lo schermato di caricamento e abbiamo anche il dischetto purtroppo non ho l'altendardo vabbè comunque dobbiamo riuscire a fare una vittoria con entrambe e quindi dobbiamo riuscire avete sentito un po' la voce nasale è perché sono un po' raspettato la cosa strana è che sto facendo 200 fps con tutto al massimo ve li faccio vedere anche le importazioni tutto al massimo guardando in alto 2,40 2,50 vaia io e molti pensavano che fosse un gatto invece è una gatta Kyo alcuni la chiamano Kyo altri invece la chiamano Kaio il nome giusto è Kyo sempre preso da NSP ovviamente spero ovviamente di riuscire a fare bene già sento uno in avvicinamento ho visto una cesta lì c'è anche una cesta lì sopra spero che il nemico non trovi un'arma forte granate minchia la pistola lasciamo stare per trovare le armi che non ci sono ma seriamente non ci sono armi minchia un re dai solo per dire perché non mi prendo i materiali anche lui non le aveva le armi un shield sempre non è molto vicino ma c'è un fucile avak un altro shieldone 4 splash non le rifiuto terzo shieldone taglia in Kratos non lo so non c'è il pompa non è che mi petto molto no vabbè il rungerto sono full splash quindi facciamo una cosa poi non runggetto al posto della pistolina dov'è il ramjet ho perso il ramjet dov'è che ecco peccato che c'è solamente sette proietti oh no no ho ciocchinato in testa voglio farla ma io sento i proietti tra l'altro continuavate con questi nuovi aggiornamenti l'input delay sta aumentando di brutto perché arrivo la stagione precedente la taglia però sembra che stai avvicinando non rifiuto molto nei materiali che ho un'altra pistola no la tale si sta allontanando invece in solito nessuno usa la skin di tratto un aumento utile un aumento utile un aumento utile peccato di fare un po' di pozzogli per non lasciare il aumento utile la cecchinata l'ho fatta io a partita voglio fare almeno uno di cecchinato in testa che mi ha toccato aveva un bel po' di pietra sto qui non aveva nulla di metallo ma vabbè non si può pretendere di questo c'è una cesta e anche una cassa forte va bene il 131 di oro e tra l'altro man mano che vado avanti non è più meglio ora sto cambiando di volta i due tanti oh non so chi sia ma vabbè non è riftato visto lol no che missata manca gli ho fatto 180 ho fatto un po' di danno alla faccia io non ho sentito neanche che mi ha sparato e che bomba aveva susa anche lui il verde c'è uno sceldino che posso che non me la prenda c'è uno scud ok penso il medico che c'è da 25 di cento di vita invece di 25 di scelta oh quello è fatto bouncer no sono full di pietra pari io non so chi siano sti qui puoi darmi un aumento decente? no eh vabbè fino a momenti che non mi servono ok non di nuovo full vita oh pari questa volta avrei sentito qualcosa lì mi sembra a meno che il tizio che era lì dentro si è già scappato ah mi sono nulla mi è missato è sceso c'è dai non ancora fai tanto dai 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 noi Grazie a tutti. Oppa. Occhio perché uno c'è, uno è qua. Cosa che aveva? Ah. Una cosa. Io so che uno... Va cominciare. Va cominciare ad allargare. Occhio. Oppa. Mi ha preso anche l'80. 5 kill e siamo in 8. Occhio. Oh. Oh no. Oh, è gallinella. Ma tra l'altro non ho trovato un medikit da nessuno. Occhio non è toccato. Pula. Adesso l'obiettivo... L'obiettivo da adesso è arrivare a fine game. Ok. 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 Ma qua qualcuno ha preso il lama. Un jet. Io sono sicuro che sono tutti a Mega City. Va com'è sicuro. E la safe si chiude alti lì. Allora, non conviene usare la katana. Altrimenti spreco solamente... gli utilizzi. È vero che gli utilizzi sono illimitati. perché devono essere usati in fondo serve. Non è freddo. Ah, è vero che il P90 da... è illimitato. Occhio. 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 Ma dovevi seguire un ramjet. Non ce l'ho adesso. Ma che stoppa? Cosa ti può prendere anche questa? C'è l'aumento del doppio colpo! L'unica cosa che spero è che quel nemico che ha sparato adesso non sia sopra le strutture. Qua non si vede però. E non mi piace neanche che sono accetto dal... Ah è il bot quello! È il bot! Dov'è? Ah è lì sopra! No vabbè. Lui ha sia il ramjet che il laser! Io non ci posso credere. L'ho messo malissimo. Dov'andarmi. Lui ha tutte le armi a lunga distanza! Quanto facciamo fuori questi? Non facciamo i nemici. Niente c'ho gli occhi pissi su di me eccolo lì. E' là sopra! E' là sopra! E' là sopra! Vabbè ma che siamo ancora in quattro! Ne manca uno! Oh uno è là sopra! Due... Il secondo è sotto! Oh dovrei fullarmi di pietra! Ok! Ok! Oh là! Yop! Non colpio! Quattro colpio! Oh è morto il bot! C'è uno là sopra! C'è uno là sopra! No vabbè! Ma sei serio? Avvicinati! Ah! Un altro è morto però! Anche quello sembra che si stia rifullando! Credo che tutto sì! Nooo! Si è camperato! Non si mette bene! L'unica cosa che posso fare è... Sfruttare... Questi qua che fightano... Per andare in zona! Merda! Mancato! Nooo! Me l'ha preso! Eh vabbè! Noooo! Me l'ha preso! E mi sa che era un getto oro quello lì Questo fa cadere 76 L'ho reso no shield Da Io non si credo per questo che vi ne No, ho mancato tutto Ho mancato No, stavo per dire, non ho più i mazzi No, shield No, ho sbagliato Rida, rida Dura Ok Let's go Sbambio La Roxy c'è Peccato che ho davvero sotto Esatto Kyo La Roxy c'è Ben detto Kyo La Roxy c'è Andiamo Vediamo adesso chi tra lei e la Rico Chatroz farà Prevalerà in questione di kingdom E ovviamente la vittoria ci deve essere Con la Roxy 7 Vediamo con la Rico Chatroz adesso Seconda parte del video delle Roxy In realtà questa seconda parte la sto tentando da 34 volte Sapete un po' Nell'ultima partita sono morto come un coglione Provate a immaginare un po' Armi Potete dire quello che volete Potete dire che sono un abbone Potete dire che sono un coglione Guarda potete dire ciò che volete Questo non cambia niente Perché margine di miglioramento Non c'è Non c'è margine di miglioramento Ho fatto una kill Sì contro uno Contro un botto Perché adesso sono morto da botto poi io Agli occhi di tutti gli altri Che l'è quello? Un verme Faccio uno fuori Mi guadagnano 100.000 euro Questo funziona Comunque se vedete con la schiena qua Provate un po' a remizzare i colori Anzi Fare i colori congruenti Perchè questa qua non ha deltaplano Non ha scia E non ha copertura Vediamo se al 35esimo tentativo Riusciamo a far qualcosa Visto che nella partita precedente ho trovato 4 smg di fila E l'emico della prima arma che ho trovato è stato il pump Che cazzo è? Ma è sopra? Faccio una cosa Lascio perdere Va bene Un intero caricatore l'ho fatto fuori Potete dirmi tranquillamente che sono una buone Perchè è quello che sono Potete dirmelo tranquillamente Ricordiamoci Questo è il 35esimo tentativo che faccio Non mi ha ricaricato l'arma? Cos'è che è qui? Fucile a boccoro Mi serve il pompa E voglio il pompa AVEC Cos'è che non trovo? Questo è un ramjet Un'altra cassa epica 3 dai DMR viola Sto trovando di tutto Ma non l'arma che voglio io Questa è quanta sfiga c'ho io Io ti gioco Io ti gioco se esco da qui Senza neanche il pompa AVEC 3 dai blu Quando l'epic quanta sfiga c'ho io Pistola blu Pistola blu Non è l'arma che cerco Un altro ramjet Niente eh Niente Niente Eh Esco da qui senza neanche il pompa Se no me lo da la bandiera C'è una cesta C'è una cesta DMJET Ma che schifo Vedemi se è una cosa del genere Guardate sotto Non c'è neanche il pompa In tutte In tutti gli edifici che ho trovato Che ho cercato Non ne è uscito neanche uno Questa finisce in rete Guarda Ho lottato due Due cassepiche lì dentro Per un totale di cinque chest Là ne ho lottate due E qua non ce n'era neanche una Beh Quasi dieci chest senza neanche dare il pompa E neanche trovato da terra Cioè non è uscito neanche dalla bandiera Siamo seri Deve darmi il carico allora Vai vai continuo No Era sempre ripartita Ma che schifo Ma se si può Uscire da una città senza neanche il fucile a pompa Senza neanche il fucile a pompa Io spiegami come faccio a fightare Questa è Ma che cazzo vuoi anche la gallina Madonna Oh Io sono uscendo Da laboratorio Senza pompa Senza fucile a pompa Provate a spiegarmi Se questo è lecito Provate a spiegarmi se questo è lecito Provate a spiegarmi se questo è lecito Prova a farmi il tizio di aprire il cavo Sempre se ci riesco Sempre se ci riesco Mi ha fatto Oh madonna Minchia me l'ha fatto un fottio di danno Sti cazzi io invece ti dico di darti una calmata Qua Andalo qua David Voi non posso facciare la launch pad ho dovuto aprire il cavo per trovare il pump io dico che questo non è lecito ma proprio per niente ho potuto più quanto mille per gli aumenti pensando di trovare carica un po' spari di più devo anche farmi max eh ho anche sbagliato devo trovare bianche le cugure perché allora praticamente non è il bot ramjet viola non so dove sia ah non sta fermo vabbè il laser è andato l'importante è far fuori il tizio che ce l'ha poi un press flash l'ha visto vero invece c'è uno da dietro che mi ha visto guarda adesso ho cominciato a timmare mancato ovviamente si guarda anche dall'alto anche dall'alto fate pure guarda io allora me la campero qua se volete timmare mi dispiace ma avete scelto la persona sbagliata lì c'è un altro con quel robo di merda e c'è anche un problema ultra smirata e doppia andiamo avanti andiamo avanti a smirare così minchia che mirano in merda perciò mio dio posso solo fuggire e giocare da codardo poi c'è un rip ovviamente mi annullo ehi che fai annullo il salto minchia che dico c'è ti dato una calmata mio dio vado alla torre e spero vivamente che non ci sia nessuno niente eh devono far forza a far me sono sul radar sono sul radar di tutti i giocatori sono sul radar di tutti i player vedi che sto trovando solo merdate vedi che sto roba, un po' in viola, ah lo store splash quello lì, alla faccia, io mi dispiace ma adesso me la campero, perché non è fattibile che sono gradati tutti, non è scritto da nessuna parte, faccio un axe, evito di fightare senza materiali, ho, non interesse, il nostro in 5, Cominciamo a spostarci L'unico modo per far fuori quello con il laser E di fargli un colpo secco col rancetto Niente 11 Ti è piaciuto? Mancato Questo va bene No L'ho fatto solo 132 Mancato Ovviamente Devo sperare solamente che non ci sia gente da dietro Non mi sembra Staccato quasi Carica Carica C***a Sei serio? Gli ho fatto pay kit Questo era il 350? Non aggiungo altro Questa cosa spamma? Oh cazzo E poi si fa il tono di nuovo Dov'è che è? Bastardo Morto 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 Foto Adesso guarda dov'è Adesso guarda dov'è C***o C***o la ricarica Altri bottas No ma Tocchiamelo Tocchiamelo Il laser Il laser Viene battuto Tocchiamelo Madonna Tentativo Al tentativo Numero 37 Finalmente Fio completato Ricochet Rocks O Rocks Scrivete sotto nei commenti Quale secondo voi È della migliore Questa vezes C***o la risposta